L'imprenditrice foggiana Maria Pina Capobianco, che dal 2000 gestisce la tenuta di Casa Freda, ha aperto le porte della sua dimora storica. La serra avvetrata, immersa nel verde, è stata una delle splendide cornici che ha ospitato la sessione fotografica dell'evento di Engagement Photo Session, organizzata in collaborazione con l'agenzia da Roma for Wedding di Inespesce. Quella di Maria Pina Capobianco è un'imprenditoria dinamica. Questa è una cosa che mi appartiene proprio caratterialmente. Quando ero piccola ero la pena della mia mamma, perché ero un vulcano continuamente in evoluzione. Mi consente appunto di creare sempre scenografie differenti, quindi garantire a qualunque sposa sempre qualcosa di diverso, di nuovo. La mia è una ricerca costante ed è lo stimolo per questo lavoro in realtà. Unica in Puglia e voluta dalla stessa Capobianco per potersi sposare in giardino tutto l'anno, l'imponente struttura in preziosità da bitulle e tralci di glicine, la tonalità in voga nei matrimoni, vanta un sistema di riscaldamento e condizionamento particolarmente avanzato per le esigenze degli sposi e dei loro invitati. Sicuramente io il consiglio che do sempre alle mie spose è quello di seguire la propria vena, la propria indole, meglio, non esagerare, non andare con stili troppo ridondanti, troppo ricchi, ma seguire sempre, dare soprattutto molta importanza all'armonia. Grazie a tutti!